Ciao Opera Estate Festival, ho pochissimo tempo per dirti tanti auguri, 40 anni sono una cifra stupenda, ma da adesso in poi viene il bello, il vero divertimento, fidati, io sono Giuliana e ti sono grata per tutte le volte che ci siamo divertiti, emozionati, che abbiamo rischiato insieme, che abbiamo vissuto la paura del debutto, l'abbraccio del pubblico nei grandi palcoscenici, nei piccoli palcoscenici, nella bellissima Bassano, ma anche negli altri paesi, grazie e tanti tanti auguri di cuore. Beh, 40 anni in quarantena, quindi Opera Estate compie 40 anni, quindi prima cosa tanti auguri, da Color Cooperativa e Color Caffè, ricordi? Beh, ce ne sono tanti, di sicuro la cosa che ci piace di più è vedere tutta questa gente che viene da tutto il mondo e che transita anche attraverso i nostri spazi, quando ci sono gli appuntamenti di Opera Estate, soprattutto di B-Motion, e, beh, un ricordo è anche che penso che da quando sono adolescente che un po' ovviamente mi interessa di queste cose e credo sia una cosa fondamentale che a Bassano ci sia un appuntamento del genere per tutto l'apparato culturale e perché appunto portando così tante persone da tutto il mondo c'è la possibilità di conoscere veramente un sacco di gente e apprezzare la nostra città per questa fantastica iniziativa, quindi tanti auguri, altri 40 minimo e speriamo che si possa festeggiare insieme. In una parola, sconfinamento, per la capacità incredibile del Festival di inventare nuovi territori d'azione e farsi breccia nello spazio e nella diversità con una determinazione incredibile. Un ricordo, dieci mini balletti ancora in versione studio, finisco al Garage Nardini, completamente dipinta di nera e attraverso Bassano, nuda, dipinta, mi metto in zata nella notte con solo un paio di ciabattine, correndo fino all'albergo per farmi la doccia, questa modalità un po' criminale e tribale al contempo. Un augurio continuare a reinventarsi, a modificarsi in ascolto con il mondo che cambia, ma soprattutto a modificare e a reinventare il mondo attorno. Grazie per me Bassano e per estate sono delle tappe fondamentali di tutto il mio percorso. Grazie a tutti.